La diagnosi percorso è l'arma vincente contro il cancro. Se noi scopriamo un tumore di pochi millimetri, e oggi questo è possibile nei confronti del seno, beh, quel tumore ha un grado di aggressività, un indice di malignità molto basso. Il processo di metastatizzazione, cioè che possa diffondersi in altri organi apparati, è nullo. Di qui quindi la necessità, che diventa una necessità psicologica, perché non vado a deturpare quest'organo, che è il simbolo della femminilità, svolge una funzione materna, una funzione estetica, una funzione sessuale, e nello stesso tempo la donna si sente integrata nell'ambito non soltanto del nucleo familiare, nei rapporti con il proprio compagno, ma anche nell'ambito della società, non è una donna diversa. Importante continuare a sensibilizzare, ad accrescere la consapevolezza verso un nemico che può essere vinto. Ad ottobre riprende la campagna di sensibilizzazione ed educazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Dal 1993 la Lilt sostiene in questo mese la campagna Nastro Rosa, tra esami diagnostici gratuiti, informazione attiva e illuminazione di rosa dei principali monumenti delle città italiane. Un lavoro di concerto per parlare di tumore al seno, ma soprattutto di prevenzione. Dedicato soprattutto alla sensibilizzazione delle donne nei confronti del tumore al seno. Purtroppo la situazione è diventata pesantemente critica, perché al di là di un aumento costante che c'è di tumore al seno, che si registra nel nostro Paese, se pensiamo che quest'anno saranno circa 60.000 le donne che avranno una diagnosi di cancro al seno, a questo si aggiunge anche il ritardo diagnostico determinato dalla pandemia Covid, che ha allontanato le donne da un lato a sottoporsi a dei controlli e dall'altro anche le istituzioni che non si sono fatte carico, diciamolo in maniera molto chiara, di poter fare seguire alle donne questi controlli. Qual è stato il risultato? Qual è il risultato? Io ora vengo da una lunga seduta operatoria. Il risultato è che le diagnosi non sono più precoci. Ci troviamo di fronte a diagnosi tardive. Diagnosi tardive significa interventi e trattamenti più demolitivi, più devastanti. È una patologia il tumore al seno che può guarire, non soltanto essere curato, ma può guarire. Si può guarire addirittura con interventi molto conservativi. Io oggi ho operato cinque donne, due donne ho dovuto portare via la mammella perché era una fase avanzata. Ecco, questo ci mette in crisi, ci mette in crisi anche sotto l'aspetto spirituale oltre che sotto l'aspetto fisico di qua, quindi la necessità di riprendere e di riguadagnare il tempo perso.